Cari amiche e cari amici di Medicina, con sueti consigli su cosa da vedere in sala questa settimana, dal 19 settembre arriva al cinema uno dei grandi protagonisti dell'ultima mostra del cinema di Venezia, ovvero Final Man di Claude Lelouch, grande regista francese che abbiamo molto amato con tanti suoi film, a partire da Un uomo e una donna, film del 1966 con Hanouk Haimé e Jean-Louis Trentignan che poi ha avuto anche diversi seguiti. Lelouch Tornant, con un film sentito, toccante, divertente e anche drammatico, una sorta di tragicomicità c'è dentro la storia del protagonista, Kad Merav, che vediamo in questo fotogramma, in un film che ci insegna davvero tante cose, sulla vita e anche forse sul cinema. Andiamo a vederci il trailer ufficiale e poi torniamo a parlarne. Mai, e poi mai, siamo stati così vicini alla fine del mondo. Non sei stanca che non facciamo più l'amore? Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri. Sono tre settimane che non abbiamo chiuso le notizie. Lui è sparito. E lei dove va, dipendo? Vado dove mi lascerà lei. Signore, posso aiutarla? Uno strano posto per un primo incontro, le pare. E lei cosa fa nella vita? Suono la tromba. L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo. Basta di le sciocchezze, non si può dire quello che si pensa in questo mondo. Dei fiori! Chi è quello? Un matto? Adorerei essere così. Un film molto dolce, molto toccante, che parla di questioni esistenziali profonde. Un film che ci insegna qualcosa. E nonostante lo spessore anche di certe riflessioni, riesce a farci anche sorridere, da non perdere. Final Man di Claude Lelouch. Secondo consiglio della nostra settimana in sala. Arriva invece per un film proveniente dal Medio Oriente, da un territorio in cui spesso il cinema racconta situazioni di denuncia, situazioni complesse. Il cinema iraniano è sempre stato molto importante in questo senso e lo sempre di più. Il film si chiama La Bambina Segreta e andiamo a conoscerlo meglio con il suo trailer ufficiale. Hai detto stasera? I miei stasera vengono qui a Teheran. Arrivano tra circa sei ore. Che succede? È strano, a quanto pare non è in casa. A chi hai mentito? A me o al signor Giaberi? Forza! Chi ti ha dato il diritto di prendere una decisione senza di me? Non ho preso nessuna decisione. Allora perché queste due si trovano qui? La responsabilità è tua. Sono in grado di farlo, d'accordo? Guarda che non sto scazzando. Ci penso io a lei. Poco fa dei poliziotti l'hanno arrestata. Non mi sembra il caso di insultarmi così. Un film molto forte su tematiche di libertà, femminilità, maternità. Un film di Alias Gari, regista che abbiamo già conosciuto con diversi altri prodotti importanti in passato. Un film molto forte, incisivo da non perdere per conoscere una situazione che deve essere conosciuta. Il cinema in Iran spesso è un'arma per poter raccontare certe storie. Io vi ringrazio per l'attenzione e andate al cinema a cercare questi film e non ve ne pentirete.